Come è il territorio? La programmazione dal basso, ovvero presentare le esigenze delle imprese all'interno dei bandi, perché talvolta spesso succede che vengono predisposti i bandi, ci sono finanziamenti, ma le imprese per la loro caratteristica economica e strutturale non possono accedere e quindi diventano uno strumento talvolta che non è efficace rispetto a quelle che sono le esigenze delle imprese. Le imprese sono pronte ad investire, quindi il futuro è assicurato da questo punto di vista, ovvero abbiamo un fermento economico in essere, ci sono giovani che si iscrivono e per cui noi vogliamo da questa regione questo aspetto, cioè essere ascoltati e programmare insieme.